E cosa più importante, abbiamo carissimo amico Mauro Maratta, cioè non diciamo niente perché tanto lui è più conosciuto di noi nel mondo di fotografia. Allora, prima mi ha ricevuto uno dei tuoi ragazzi che non conoscevo e lui non mi conosceva, mi sono presentato dicendogli, io sono cliente da quando esiste il negozio, ma non questo, quell'altro. Ed è vero. È vero, è vero. Mauro, allora, intanto dimmi questa macchina è bella o no? Allora, siccome tutti mi conoscono come dici tu, e forse moltissimi di questi pensano che io sia particolarmente amico di Nikon, mi permetto di dire una cosa bella e una cosa cattiva. Certo. Così il discorso diventa un pochino più concreto. Allora, sì, chi ha in mente, come me, di 5, di 6 Nikon, di 5, di 6, quindi l'ammiraglia Nikon, finalmente ha trovato l'erede. Questa per me è più l'erede della D3X, che io ho amato immensamente, perché combina velocità altissima, come l'ammiraglia dello sport, con altissima risoluzione. È una cosa che prima in un corpo così solido e sostanzioso non c'era. Però per Nikon ha creato una frattura, e tu come commerciante credo che me lo dovrai confermare. Cioè, c'è un divario talmente elevato, con le altre Z che pur sono belle, che ha creato un'aspettativa mostruosa. Quindi in questo momento Nikon mi dice sottovoce, non promuovere troppo questa macchina, perché non ne abbiamo abbastanza per accontentare i clienti. E questo sta creando un sacco di mal di pancia. Cioè, non potevano fare uno step intermedio prima? Io credo di sì. Però hanno voluto fare la macchina assoluta. Cioè, qui veramente qualcuno mi dovrà convincere a cambiarla. Anche perché senza otturatore, io ce l'ho da tre settimane, e un periodo in cui non ho tempo per fotografare, ho fatto 85.000 scatti. Non essendoci l'otturatore, ne farò un milione, non lo so. Senza problemi. Esatto. Cioè, non può avere problemi. Esatto. Cioè, da questo momento in poi, non dovete chiedersi, cioè, quanti scatti ha? No, cioè, è inutile chiedere. Ma poi lo vedi già da questo meccanismo, quando tu l'apri, c'è questa protezione che ti dice, ma cosa vuoi da me? Certo. Adoperami. Certo. E devo dire, non so se conoscete questo, questo 100-400, in questo momento è il suo degno compagno, in attesa di vedere il 400 Focus 2.8. Cioè, questo conosciamo, ma c'è anche quel pezzo che non ci consegnano. E quindi dice, se voi lasciate... È il mio amico Silvio Renesto che ce l'ha prenotato da te. Esatto. E aspetta. Da mesi. Da Natale. Sì, sì, lo so, lo so. L'abbiamo usato insieme in capanno la settimana scorsa. Eh, gli sta venendo ancora mal di pancia. È il discorso che dicevo prima. Vedendo la qualità, cioè, ha detto, beh, questo è per me. Sì, sì, anche perché anche qui Nicon ha fatto tanti bei grandangoli, tanti zoom, ma teleobiettivi, questo è il primo. Eh, c'è fame, c'è fame. Troppo... Eh, ha fatto 400? Eh sì, 400. Hanno già fatto l'annuncio che... Calma, non aspettatevelo subito. Esatto. Esatto. E quindi, sì. Purtroppo sì, cioè, creare tutte queste aspettative ha portato anche a difficoltà che in questo momento sono comprensibili per Nikon, ma non solo per tutti i produttori, non solo produrre, non solo, ma anche spedire. Adesso me lo spieghi tu che è piuttosto impegnativo, per cui è difficile. Ma guardate, c'è questo dito. Cioè, commovente, cioè, no? Ma commovente, cioè, ma donna. Allora, ho fatto questa scena davanti ai colleghi alla presentazione, qualcuno si è anche un po'... Certo. Però, cioè, questa articolazione è garantita per sostenere il peso della macchina, senza problemi. Cioè, nessuno ha fatto una cosa così robusta, cioè, sembra uno strumento di laboratorio. Impressionante, sì, certo. Cioè, impressionante, bellissima. Anche il mirino, cioè, è la prima cosa che io ho notato, cioè, guardando nel mirino, ha una bellezza, naturalezza, e che, cioè, no, devo dire, finalmente, l'UF è veramente bello. Sì. Cioè, ti fa sentire anche tridimensionalità. Il problema del mirino elettronico, cioè, spesso volentieri, troppo alte fatte, è che non senti tridimensionalità. Mentre questo qui è più reale. Sì. Tanto che, a volte, hai un po' di difficoltà a capire che stai scattando. Ah, certo. Cioè, ti sembra di vedere la scena. Ma non un monitor televisivo, perché alla fine è un monitor televisivo questo, anche se è in miniature. Ma... E tra l'altro accetta molto bene il contrasto, perché in interno è perfetto, ma anche in esterno, anche con la luce è molto forte, è facilissimo. Ma nel momento in cui, e credo che questa sia la cosa che vogliono sentire i miconisti, dai in mano questa macchina a uno che usa di 4, di 5, di 800, di quello che vuoi, senza dargli spiegazione, anche se non ha mai usato una Z, la adopera. Cioè, non devi imparare niente di nuovo. Ok. La usa tranquillamente come, beh sì, le modalità quelle più sofisticate magari è necessario, però, rimettendo la macchina come è abituato a usare, lui è il fotografo. Abbiamo provato a Lago con un amico molto tradizionale, da Rullino da 36, ha portato il 600 POC 4 e lui usa generalmente la D5. Abbiamo montato questo con FTZ2 e lui si è messo a fotografare, non gli abbiamo spiegato niente, non si era nemmeno accorto come era settata la macchina. Dopo un po' ha detto, ah ma è auto ISO, sì sì, stai tranquillo. E ha fatto le sue foto, molto soddisfatto e sarà uno di quelli che penso te la ordinerà appena un attimo di tempo. Come funziona? Cioè, la qualità della white balance, nella situazione difficile, legge bene, non so, la combinazione della luce combustibile, della neon diurna, presi insieme, legge bene, vero? Sì sì. Ho provato con termocolorimetro io, che lo faccio sempre all'inizio per verificare, è meglio, è anche meglio del Seconic che ho io. Certo, in effetti è uno degli elementi che ultimamente è migliorato veramente tanto, cioè che restituisce quella naturalezza, cioè combinazione della luce, no? Certo, è bello, è bello. E alta sensibilità come andiamo? E come Z7? Sì. Allora, chi la compra dovrebbe pensare che questa è una Z7 che ha fatto palestra, che è diventata robusta. Come te. Sì. Diciamo che io 120 scatti a seconda non li so fare. No, eh. No, io lo faccio sempre come... E uno mi chiede, ma questo è il massimo del rumore che fa? Ah, qui scatta 120 scatti a seconda. Buon male. Il detentivo, per questo è il massimo per l'Olimpiade, la notte della gara, della... Partita di golf, cerimonia, matrimonio... Anche, che vero. Prima ho sentito che, giustamente, quel rumore della Zenza... Questo è il massimo rumore che fa. Ma io metto modalità silenziosa, sta facendo 120 scatti a seconda e non lo sai. Questo non riesce a fare crack, cioè, solito, cioè, non so, della FM2 o Nikon F. Scatto di Nikon F non ce l'ha. Ah, ecco, allora questo è il difetto. Diciamo che possiamo chiederglielo se riescono a metterlo via firmware, perché no? Simulazione del scatto della Nikon perfettamente, magari, no, cioè... Penso che si possa fare, se ha un altoparlante decente si può fare. Certo, alla fine... Perché, purtroppo, sì, questo è il massimo, non si sente. Come macchina con motore elettrico che fa rumore, no, cioè artificialmente con creato il rumore, il rombo della... Eh, ma è una necessità per noi, per l'auto e per evitare che un passante non si accorde. E qui, per molti, di capire che ha scattato. Beh, io se non sento il cracker, non sono soddisfatto. Certo. No, ma hai visto, cioè, se tu scatti, c'è solo una cornicetta che lampeggia, che ti fa capire che hai scattato altrimenti... E quindi, sì, capisco che il suono sia... Però, purtroppo, è sempre molto silenzioso. Rispetto a D5, chi arriva da D5, che è un irradiatore, insomma, non c'è modo di passare inascoltati o inosservati. Questa qua è proprio la macchina del reporter moderno, perché tu sai che ci sono già dei posti dove... a Casa Bianca, ma anche nelle nostre cerimonie o interviste politiche, le reflex non sono più ammesse. No. Non ti fanno più entrare. Quindi per lavoro o negli spettacoli. Certo. Bene. Poi, non so se c'è ancora qualcosa da dirigere tecnicamente, cioè proprio particolare. Ma allora, una cosa che i fotografi, purtroppo, non interessa se mai... Non è inutile che ci giriamo attorno. Ma il video di questa macchina è di una qualità disarmante. Ah, sì? Cioè, anche questa 8K, ma anche nella risoluzione più bassa, quando tu lo rivedi, è meglio di quello che hai visto mentre giravi. Abbiamo fatto gli uccellini nella pozza che fanno il bagnetto, con tutti gli spruzzi. Certo. Gli vedi in televisione e ti sembra meglio di quando eri lì. E senza necessità di fare post-produzione. Cioè, chi è bravo al computer riuscirà a fare cose spettacolari, però già in presa diretta è sorprendente. E devo dirti che sto usando molto di più il JPEG in questa macchina di prima, perché è già pronto. Non c'è molto da elaborare. In effetti, anche questa è un'altra cosa che negli ultimi anni hanno migliorato parecchio. Il JPEG è già pronto da utilizzare. Sì, sì, sì. È di qualità più sosalta, elevata. Sì, anche per chi dice, beh, ha una risoluzione troppa, è troppo elevata. Fa tanti scatti, venti scatti, io mi riempio di foto. Ecco, ma se fai JPEG non c'è bisogno. In ogni caso qui hanno fatto, ed è una novità secondo me importante, un accordo con la società di software che ha implementato un sistema di compressione del RAW talmente efficiente che il nef di questa macchina è grande quanto il JPEG. Ed è una cosa a cui non si crede. Ah, ma dai. Ah, questa è anche interessante. E che tra l'altro non appesantisce l'elaborazione. Certo. Hanno comprato poi una licenza apposta e credo che siano gli unici in questo momento da questa società che ha fatto questo miracolo, insomma, è una compressione estremamente elevata. Quindi chi è abituato a Z7, che ha un sensore con la stessa risoluzione, un sensore diverso, ma ha la stessa risoluzione, si troverà dei RAW che pesano la metà, a parità di questa. Bene. Detto questo noi dobbiamo dire in coro non comprate questa macchina. Perché non ce n'è. Perché non ce n'è. Non ce n'è, non ci sono. Abbiamo una lista di attesa così e non viene consegnato. E questo bisogna dare una saccagnata a Nikon Inc. Giappone, no? Sì. Perché il problema comunque è il trasporto anche, difficoltà anche di creare, produrre e trasportare anche. Perché stanno diventando come, non so, un'attesa di... Devono creare anche logistica anche da sola. Non so, cioè creare. Cioè, vabbè, adesso costruisco una nave di trasporto, un aereo di trasporto e faccio trasportare. Altrimenti metti in coda di trasporto e che non arrivano mai. Vabbè, cioè, finirà anche questo, diciamo di... Sì, finirà il momento in cui ti esce un altro modello, altrettanto appetito che ti creerà altre attese. Perché abbiamo visto che ormai ogni modello... Certo. In effetti... Anche ZFC all'inizio si trovava... era difficile, no? Ma molto. Io ne ho due di quelle. Ah. Cioè, poi, 28 mm serie E che non arrivava mai, io ho ordinato 10, un giorno arriva 10. 10. Per fortuna. Meno mare. Meno mare. Cioè, arriveranno. Arriveranno. Cioè, io sono un po' dispiaciuto comunque, capisco anche, e 100%, cioè, concordo anche pienamente che non ci sarà di 7. Cioè... Chi lo sa? Chi lo sa? Perché è un mercato che ancora per appassionati o per chi ha specifiche esigenze... Cioè, lo spazio. Lo so. Però non ci sarà possibilità di farla a prezzo. Quindi, o limitazioni come F200, che noi la chiamavamo F200, la F6, oppure una macchina da 15 da 20.000 euro che sarà prodotta in pochi pezzi. Comunque, quando ci capita, non so, una G5 bellissima, praticamente nuova, 3.000 euro, cioè, mi viene voglia di comprare. Madonna. Cioè, questo la voglio comprare. Certo. Non me ne frega niente. Tanto. Tra dieci anni funzionerà bellissimo. Basta avere batterie aggiornate. Sì. Che poi la batteria di questa macchina funziona benissimo anche. Certo. Sulla D5... Peccato gli obiettivi, perché, dobbiamo dirlo, insomma, gli ultimi obiettivi fatti per Z non eravamo abituati. È triccata la qualità, eh? Non eravamo abituati. No. No. Anche 70-200. Sconvolgente. Cioè, 70-200. È la parola giusta. Sì. Quando ho visto, io sono rimasto sconvolto. Anche 105. Sì. 105 è un passo in avanti straordinario. È incredibile. Anche 50, quello piccolo, senza andare su quello lusso. In effetti, questo tradimento di questo attacco, no? Cioè, perché per gli iconisti era tradimento. Perché è tradizione e che oltre 60 anni abbiamo potuto montare F-Mount. Questo era stato tradimento. Sì. Ma, perdonabile. Visto la qualità, era necessario. Allora, quando mi hanno mandato da provare, vedete, non lo compro. Non l'ho comprato per 58 mm. Per me è stata un'esperienza mistica. Per te. Di più. Di più. Di più. Cioè, quello che, le sensazioni che dà mentre fotografi, poi le rivedi nelle fotografie. Che non è una cosa comune. Perché spesso tu hai una determinata sensazione, ma è di quel momento. Ma rivederla nelle immagini è una cosa che mi è rimasta. Sì. Che è legata a quell'obiettivo. E infatti spero che faccia una via di mezzo per i comuni non mortare il 58 mm di autofocus. Certo. Non così bello, però bello come era il vecchio Noctonicor. Sì. 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 In effetti. È vero. Confermo. Cioè, quello è uno dei capolavori super luminoso come anche della Noctilux della Laica. Certo. 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 Però è pari passo di qualità. Cioè, sconvolgente anche quello. E credo che dipenda da questo benedetto. Esattamente. Un attacco Z. Certo. Ho sentito parlare che ce n'è un altro in progettazione, però non so niente. C'è un altro oggetto di quel tipo. Beh, in questo caso tu saprai prima di me e quindi mi devi dire queste cose. Quando ho più informazioni te lo so dire. Perché tutti devono firmare il contratto di non divulgare. Ma, cioè, visto che siamo amici possiamo dire. Ma poi Nicola è particolarmente attenta a non far circolare la voce. Giustamente. Bene, Mauro. Io ti ringrazio di questa chiacchierata. Tantissimo ti ringrazio. È un piacere. È un piacere. Perché non potevi passare, ma sei venuto a trovarci. E noi ti ringrazio. Facciamo conto che qua ci sia anche mio amico Max Acquine. Ah sì. Max! Cioè potevi venire anche te, Max! La prossima volta. Eh sì. Tu hai pagato 60 euro di spese di spedizione per un obiettivo. Allora venivi te con l'aereo. Max! Grazie! 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 Grazie!